Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a parlare un po' meno di cripto e un po' più di finanza personale. Oggi abbiamo una cifra tonda, l'avete visto dal titolo, 100.000 euro. 100.000 euro che possono essere il punto di partenza per l'indipendenza finanziaria di ognuno di noi. 100.000 euro che sono un numero molto particolare che da qua in poi può innescare un effetto cosiddetto palla di neve, un effetto valanga che può creare nel breve termine, se considerate un arco temporale qual è il mio, quindi da 25 anni a per esempio 45, un'indipendenza finanziaria seria e solida per il resto poi della vostra vita. Ovviamente io non sono qui per giudicare le situazioni finanziarie di nessuno, ma andando a guardare i numeri che abbiamo in Italia, 100.000 euro sono dei numeri veramente, veramente alti. Avere persone che posseggono 100.000 euro da parte, escludendo ovviamente l'investimento immobiliare, ovvero il patrimonio netto, un'abitazione, un qualsiasi tipo di investimento non liquido ma più fisico, escludendo tutto quello, avere 100.000 euro da parte, suddivisi magari anche investiti in azioni, in obbligazioni oppure semplicemente liquidi, inizia ad essere una cifra che non è adatta a tutti, o meglio non è raggiungibile da tutti e questo me ne rendo conto, anche perché nelle percentuali che abbiamo in Italia solamente il 4,7% degli italiani può avere o ha 100.000 euro di risparmi barra investimenti liquidi. E il 4,7% ragazzi non ha distribuzione omogenea. Io ho 25 anni e di persone che hanno 25 anni ma con 100.000 euro da parte, beh, non ne trovate. Il numero di persone che ha 100.000 euro da parte alla mia età, a 25 anni, è molto tendente allo zero, ma in particolare sotto i 30 anni è molto tendente allo zero. Andate a pensare ai lavori altopagati. La maggior parte di questi hanno un corso di studi molto molto lungo. Pensate a un medico. Fanno sei anni di studio senza essere attribuiti, cinque anni di tirocino pagato, subito dopo, diciamo, aver studiato, quindi dai 19 ai 30 è praticamente un insieme di studi, lavoro sì, ma non pagato in modo alto, quindi intorno ai 1.700-1.800 e poi da lì in poi iniziano a guadagnare una certa cifra. Ma non è detto che in questo arco di tempo loro non abbiano avuto contratto o avuto delle spese che comunque gli hanno portato ad avere delle spese accessorie, magari hanno contratto mutuo delle sue accessorie nel futuro. E tenere da parte 100.000 euro nell'età più breve possibile, quindi in early age as possible, è veramente veramente difficile. Riuscire ad ottenerli prima dei 30 anni può essere la chiave di volta e assolutamente un vantaggio statistico e numerico non rispetto a solo la popolazione italiana, ma andiamo a guardare anche il mondo. Solo il 10% degli americani ha più di 100.000 euro da parte. E anche qui abbiamo la stessa distribuzione nonostante gli americani abbiano una, parlo gli Stati Uniti ovviamente, abbiano una percentuale di risparmio possibile più alta a causa dei loro stipendi molto più alti rispetto a noi. Certo ci sono paesi messi molto meglio, ma statisticamente più si va avanti con l'età e più questo numero, questi 100.000 euro, diventano possibili. In Italia aveva una media del 4,7% degli italiani. Ovviamente non stiamo considerando neonati e persone che non possono farlo, stiamo prendendo solo la parte di popolazione che effettivamente possono farlo. E un 4,7% è veramente molto molto basso. E la maggior parte di queste persone, che hanno 100.000 euro da parte, sono nella fascia medio-alta della popolazione per quanto riguarda l'età, dai 45 ai 65 anni. Detto questo, raggiungerli quindi non è innanzitutto facile, non è per tutti e non è sempre la strada migliore per tutti noi. Ma avere una forte capacità di risparmio, avere una forte propensione all'investimento, secondo il mio parere, è uno di quei settori trainanti che può cambiare la vita di qualsiasi persona all'interno di un qualsiasi business o all'interno di qualsiasi contesto sociale. Avere 100.000 euro da poter investire innesca quell'effetto palla di neve, ovvero che trascina i nostri investimenti a una velocità che noi neanche ci immaginiamo. Immaginiamo un tasso di risparmio medio italiano che sta intorno ai 200 euro al mese. Quanto ci impiegheremo noi a risparmiare 100.000 euro senza andare ad investire? Cioè immaginate, immaginate, 200 euro al mese sono 2.400 euro all'anno. 2.400 euro all'anno. Ad arrivare ai famosi 100.000 euro, quanto ci impiegheremo? 40 anni. Ed è proprio qui che l'investimento invece ci aiuta, ci viene incontro. Innanzitutto il risparmio è fondamentale. La capacità del risparmio deve essere aumentata. Deve essere aumentata e come fare? O aumentare i propri introiti o vivere in modo frugale. Riuscire a risparmiare questa cifra o raggiungere questa cifra nella maniera che voi volete nei primi 10 anni della vostra vita lavorativa secondo me cambierà drasticamente il vostro modo di vivere la vita. Faccio un esempio. Se voi siete lavoratori e riuscite a risparmiare 10.000 euro l'anno, so che sembra impossibile, ma immaginate una famiglia, una famiglia che ha delle spese contenute, una famiglia che vive nella frugalità, senza andare a sprecare il proprio denaro, limitando le spese per i primi 10 anni di vita. Possono mettere da parte 100.000 euro in meno di 10 anni. In 8-9 anni potete mettere da parte questi soldi e poter navigare diversamente le acque della vostra vita, le acque della vostra vita finanziaria nel futuro. Facciamo un esempio tangibile senza andare a rimanere nel vago, perché secondo me rimanere nel vago non ha nessun senso. Andiamo a vedere quanto tempo ci impiegheremo risparmiando 10.000 euro all'anno, so che sembra una cifra incredibile, ma in realtà vivendo in due non è poi così incredibile. Facendo dei sacrifici, vivendo in modo minimale e frugale, si può fare investire 10.000 euro all'anno a un 7% medio annuo, dato da un ETF, un World, qualsiasi, o addirittura investendo su Money Farm, negli ultimi periodi, da circa un 7% medio annuo, in un periodo abbastanza lungo di tempo, di circa almeno 10 anni, bene, considerando un 7% di ritorno medio annuo, possiamo vedere come investendo 10.000 euro all'anno, scusate, ci bastano 7 anni per andare a superare la quota dei 100.000 euro, arrivare quasi a 110.000 euro. Di lì basta anche dimezzare il nostro tasso di risparmio, quindi già iniziare a tirare i remi in barca per andare comunque a guadagnare una cifra sufficiente per portarci nei prossimi anni, nei prossimi 5-6 anni, ad arrivare ai 200.000 euro, a raddoppiare nuovamente il nostro capitale, nonostante noi avessimo dimezzato il nostro tasso di risparmio. E ancora avanti potremmo andare a rinforare e ridurre ulteriormente il nostro investimento, magari passando da 5 a 3.000 euro l'anno, a 4.000 euro l'anno, e poterci permettere di raddoppiare ancora il nostro capitale, o di aumentare di 100, altri 100.000 euro il nostro capitale in veramente brevissimo, brevissimo tempo, considerando sempre un 7% medio annuo di investimento. Ragazzi, non è qualcosa di incredibilmente impossibile. Il problema è che è un obiettivo a lungo, lunghissimo termine, e la nostra mente non è progettata per andare a considerare un qualcosa a lungo termine, perché noi abbiamo fame, beh, andiamo a cucinare e mangiamo, abbiamo sete, beh, abbiamo lì l'acqua, andiamo a bere, dobbiamo svolgere la nostra funzione, qualsiasi cosa, beh, andiamo e la facciamo. Avere un progetto a lungo termine è contro natura, ma in questo settore, in questo campo, ti può portare davvero a cambiare la vostra vita da così a così. Questo video non è fatto per screditare nessuno, assolutamente. Ci sono situazioni economiche, finanziarie, situazioni familiari che non ti permettono di risparmiare, quindi se tu, per esempio, che stai guardando il video hai 40 anni, non è un euro da parte, delle volte ci sono condizioni nella vita che non ti permettono di risparmiare, sono condizioni nella vita che, parliamoci chiaro, non ti permettono di vivere come vorresti, di avere quel tasso di risparmio che può avere, per esempio, un ragazzo come me che non ha famiglia, ok, sì, ho un mutuo ma un discreto stipendio, ho delle entrate extra, tento, con il mio lavoro, ovviamente, di risparmiare qualcosa. Se anche la mia compagna dovesse venire ad abitare con me, dovesse venire a vivere con me, potremmo molto probabilmente vivere con un solo stipendio e non essere neanche più di tanto frugali, poter permetterci più o meno quello che ci pare, anche vivendo con un solo stipendio o con qualche entrata extra, andando ad intaccare poco quello della seconda persona e poter risparmiare eventualmente diverso capitale tutti i mesi. delle volte non è così per tutti e ci sta assolutamente. Ma tu di 40 anni che non sei nella mia situazione, tu di 50 anni che non sei nella mia situazione, ma sei una situazione completamente diversa, non è mai troppo tardi per partire. Magari non con le stesse cifre, magari il tempo non è dalla tua parte, magari non è quello che vuoi, magari hai vissuto la tua vita in modo non frugale, sono scelte, soprattutto non all'inizio, magari hai vissuto al massimo la tua gioventù senza andare a risparmiare neanche un euro, ma queste sono tutte scelte. Semplicemente, sto dicendo che secondo me, per ottenere la libertà finanziaria, andare in pensione con una Rita a 10 anni in anticipo, quindi magari invece di andare in pensione a 64 anni, come dovrei andare io, o 63 insomma, mi sono fatti i calcoli, beh, potrei andare in pensione decisamente prima, anche a 52, 53 anni con una Rita eppure avere una rendita passiva dai tutti i miei investimenti. Sono scelte che si fanno, sono scelte che vanno prese come tali e questo video non è fatto assolutamente per screditare tutte quelle persone che hanno fatto una scelta diversa di vita, assolutamente, e ci mancherebbe. Io spero che questo video ti sia piaciuto, spero che questo video possa averti aiutato, averti spronato a riuscire a risparmiare quel poco da poter raggiungere finalmente i tuoi 100.000 euro investiti. Noi ci vediamo al prossimo video e se ti piacciono questa tipologia di video, mi raccomando, lascia un like, condividi questo video per altri video simili. Ciao a tutti!